Noi ci siamo sempre occupati di edilizia residenziale pubblica e continueremo ad occuparci. Naturalmente, stanto in opposizione, siamo qui per fare da megafono cassa di risonanza ai tanti disagi della popolazione. Sono case di proprietà del Comune di Pescara. Il Comune di Pescara deve stanziare fondi, risorse, per mettere in sicurezza queste case. Sono case fortemente ammalorate, gravamente faticenti. All'interno di alcuni appartamenti ci sono infiltrazioni diffuse, umidità diffusa. Ci sono anche persone con patologie malate che non riescono e non possono vivere all'interno di questi stabili perché non sono salubri. I problemi maggiori sono dei lavori che dovevano essere completati e che non sono stati completati rispetto a queste tre palazzine. L'impermeabilizzazione sopra delle palazzine è stata fatta, però il problema è che sono stati staccati degli intonaci esterni delle palazzine e non sono stati ripristinati. Questo discorso fa sì che si produce della muffa all'interno degli appartamenti e quindi è una situazione molto difficile. Poi cosa chiedete al Comune? Chiediamo semplicemente di completare i lavori, di trovare dei fondi per completare i lavori perché comunque queste periferie non sono cittadini di serie B. Visto che l'amministrazione Alessandrini cambiava verso e quindi voleva che le periferie fossero il centro, non mi sembra così sia per questo discorso qui perché per altre periferie la situazione è sempre drammatica a questi livelli.